Un'occasione per ritirarsi dagli affanni di tutti i giorni e ritemprarsi nell'ascolto della parola del Signore. Si sono conclusi questa mattina, presso la Casa Divinaestro di Ariccia, gli esercizi spirituali ai quali hanno preso parte Papa Francesco e i membri della Curia Romana. Prima di far rientro in Vaticano, il Pontificio ha rivolto il proprio grazie al carmelitano padre Bruno Secondin, che quest'anno ha tenuto le meditazioni sul tema Servitori e Profeti del Dio Vivente. Non è facile dare esercizi ai sacerdoti, ha detto Papa Francesco. Siamo un po' complicati tutti, ma lei è riuscito a seminare. Che il Signore faccia crescere questi semi che lei ci ha dato.